In occasione della Settimana delle Scienze della Comunicazione, promossa dall'Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, si è tenuto presso l'Ateneo di Roma 3 il convegno dal titolo Oltre la crisi, comunicare la speranza, organizzata dal coordinatore della settimana, il professor Giampiero Gamaleri. Il tema che fa da filo conduttore per l'evento è infatti la comunicazione della speranza, tematica che diventa particolarmente urgente e delicata se associata alla grave crisi economica che il nostro paese sta vivendo. Prendendo spunto dall'indagine effettuata dall'Istituto Piepoli sul tema crisi, speranza e comunicazione, ha preso il via la discussione sul tema con i tanti docenti ed esponenti del mondo dei media intervenuti al convegno. Settimana delle Scienze della Comunicazione in corso, il tema scelto è Oltre la crisi, comunicare la speranza, un tema significativo, dove c'è crisi c'è sempre un aumento della speranza o una diminuzione? Dove c'è crisi si spera che ci sia la speranza come reazione alla crisi e quindi il superamento di questa situazione. E credo che siano due termini molto correlati, non a caso anche nella ricerca che ha preparato questo convegno, la parola crisi ricorre spesso e nello stesso tempo ricorrono gli elementi su cui poggiare questa speranza. Oggi si parla di comunicare la speranza, lei ha incentrato il discorso sulla pubblica amministrazione e ci vuole appunto ripetere il suo punto di vista? Sono partito dall'antica constatazione, purtroppo antica, che la pubblica amministrazione era il primo datore di lavoro in Italia per arrivare adesso, massacro dopo massacro, a fare della pubblica amministrazione una specie di palla al piede dello sviluppo economico, cosa che non è, perché la pubblica amministrazione contiene al suo interno risorse umane che non si vede perché, se sono statali, devono essere considerati dei paesi, se sono privati delle risorse. Secondo la ricerca dell'Istituto Piepoli, il 93% dei cittadini intervistati, caratterizzati da età, condizione sociale e appartenenza territoriale diverse tra loro, lamenta un calo del sentimento della speranza, ma manifesta fortemente la richiesta che questa speranza possa essere risvegliata e alimentata dalle istituzioni. Noi abbiamo intervistato gli italiani, maggiorenni, tanto per darvi un ordine di posizionamento e abbiamo chiesto se sono più fiduciosi, quindi se hanno più speranza nel futuro o se sostanzialmente vedono più nero. In questo momento gli italiani, come molti cittadini di paesi europei, tra virgolette vecchi paesi, quindi Spagna, Francia, Germania, sono pessimisti, quindi hanno meno speranza nel futuro e la differenza tra coloro che pensano che il prossimo anno, tra virgolette, andrà meglio rispetto a quest'anno è un delta negativo, quindi abbiamo circa il 40% di persone che hanno poca speranza nel futuro. Accanto al fatto che si è chiesto, ben il 93% di intervistati, praticamente tutti, che le istituzioni comunichino, accanto a questo si dice anche un buon 40%, un elemento di insoddisfazione rispetto solo all'anno scorso, quindi c'è un'aspettativa che finora però è andata abbastanza delusa. E poi c'è un altro dato molto importante, molti dicono comunicare sì, ma comunicare cose che effettivamente poi si realizzeranno, basta con gli annunci a vuoto perché quelli hanno effettivamente un effetto boomerang che certamente non fa bene alla popolazione. Grazie a tutti.